Dite un po', ve la ricordate la scorciatoia per arrivare dal golem d'oro? Bene, perché è ora di rispolverarla. Infatti, invece di puntare direttamente su The Mines of Avaris, mi sto dirigendo a Hated Shadow. Perché è da qui, che usando quella galleria, qui sulla sinistra la stazione, e qui la galleria, che ci porta all'ingresso per le Mines of Avaris, ma molti più vicini al nostro golem, e soprattutto sulla strada per prendere la scorciatoia. Un bel trucchetto che è basato sul salto con la granata, che ci permetterà di bypassare almeno un quarto d'ora di gioco, soprattutto se vi state buttando nell'avventura a livello potentato 8. E lì, tutte le battaglie, ovviamente, durerebbero un po' di più. Per questo ventisettesimo giorno, dovrebbe essere l'ultimo, anche se c'è un ventottesimo sulla pagina del sito dedicato al torneo, forse per una specie di premio cumulativo o di community, il bottino che ci aspetta dal golem d'oro è niente o po' di meno che la Grog Nozzle. Ed immagino la felicità di quanti tra voi se l'erano persa, e che adesso hanno la possibilità non solo di ottenerla, ma di ottenerne una con delle buone statistiche, e che non ha bisogno di nessuna missione attiva per essere utilizzata, indossata. Ecco, laggiù dove avevamo accoppato il re dei nani, c'è la debolezza nella mappa del gioco, che ci permetterà di saltare su quelle rocce davanti a noi, usando appunto una granata come propulsione. Dopo aver sterminato tutti i nani, qui vicino all'ingresso, non potete sbagliare un po' sulla sinistra, c'è anche quel mucchietto di ossa, toglietevi il mod granate, altrimenti il trucco non funzionerà. È normale sprecarne un po', e non sprecate 4 o 5 prima di riuscire a trovare il tempo giusto, anche perché è un po' che non ci provavo in questa posizione. Che sia la volta buona. Ma sì, e siamo su. Qua è facile, con qualche saltino, raggiungere la cima. Ok. Adesso è sufficiente trottarellare fino al di là del cancello, normalmente chiuso, e poi, eventualmente provate a rifornirvi di granate, aprendo le casse, non è detto che ce ne siano, ma è abbastanza probabile. Se poi avete il mod che si auto-rigenera, come le Magic Missile, tanto meglio. Qui ci si può salire senza granate. E ora invece serve un'altra granata. Sempre nell'angolino. Salto. E siamo saliti al livello giusto. Adesso la parte più difficile, che però devo farvi vedere prendendo uno spezzone del vecchio video, perché purtroppo ho sbagliato con il dispositivo che registra, e mi manca quel pezzettino. Poco male. La tecnica è ovviamente identica, e non dipende dal livello con cui sto giocando. Un po' scuro. Saltate solo quando la granata rimane più o meno lì, eh. Perché altrimenti è inutile, rischiereste poi di cadere ancora giù. Ecco fatto. E qui il solito particolare del glitch poligonale. Qui attenzione a fare un bel salto, altrimenti si precipita giù in mezzo a un pasticcio della mappa, e anche qui, attenzione, un altro bel salto. Siamo praticamente arrivati. Opla. Laggiù. Ecco, nel caso non doveste riuscire a mettere in pratica questo trucco, guardatevi il mio video originale, è il numero 81. Qui, se volete evitare di prenderle da questi bestioni, fate litigare tra loro. E poi, quando saranno impegnati, potrete passare senza grossi problemi. Ecco, come vi dicevo. Ciao belli. Ora è sufficiente correre fino in fondo e buttarsi giù, o dalla botola, o direttamente nel cortile sottostante. Eccoci qui. In fondo ci aspetta il golem dorato. La botola, ma chi se ne frega. Saltiamo tutto. Giù. Dovete arrivare fin sotto la lava, altrimenti non sponerà il mister golem dorato. Ma sto dando per scontato che voi sappiate perché la grog nozzle è così ambita. Pensatela come una super ruby. Non sapete cos'è la ruby. È un di quelle armi di Moxie che, proporzionalmente al danno che farete al nemico mentre la equipaggiate, eccola qui, col kanzerker e una pacchia, vi restituisce indietro una parte sotto forma di energia. Ok, la ruby, che sembrava già, anzi è ottima da questo punto di vista, vi restituisce il 12%, se non ricordo male, dell'energia. Cioè del danno sotto forma di energia. Beh, la nozzle, il 65%, il che equivale in pratica ad essere invulnerabili, immortali, mentre si ganzerca. Chissà perché, ultimamente Salvador ha la brutto vizio di contraddirmi. Ok, quasi invulnerabili. Ebbè, qui sono tutti nemici a un livello mostruoso e sono circondati. Ma adesso mi rifaccio. Altra qualità pregevolissima della nozzle è scoria. Per cui non solo vi tiene in vita, ma mette i nemici nella condizione di subire il quadruplo del danno quando giocate in modalità cacciatore definitivo, che è un must per superare certe sfide. Osservazione. Sto anche indossando il B, eh. Mettendo un antagonist o uno scudo di alta protezione ci si mette forse un pochino di più, ma d'altronde qui il B a occhio sarà stato attivo quanto? 5 secondi prima di cominciare a prendere calcina di dietro? Quindi tanto valeva mettere fin dall'inizio. Eccola qui, livello 8, Mix Moxis Growth Nozzle. Dicevo, tanto valeva mettersi fin dall'inizio uno scudo di alta protezione, non sarei andato probabilmente in lotta per la vita neanche una volta. E adesso, ecco, da lì siamo venuti, no? Da Hatred Shadow. Qui siamo andati poi a sinistra per andare nella zona del Re dei Nani, dove abbiamo fatto il salto con la granata. Qua a destra ci andiamo ora, perché ne approfitto per mostrarvi un buon posto per fare il farming del cosiddetto Dio del Ferro. Occhiatina alla mappa. È praticamente impossibile sbagliare. Lì in cima c'è Mr. Clap Clap in formato mago. Infilatevi in quel portone. Impossibile sbagliare. Portone, insomma. Lingot Processing. Ok, qui scalate tutto. Non vale la pena fermarsi a combattere. Ma purtroppo oltre questo passaggio c'è un cancello. E quel cancello si apre soltanto dopo aver ammazzato un buon numero di questi guastafeste. Che a livello 80 fanno male. Il cancello si è aperto e appena questi carognoni mi consentono di ecco, di passare. lì vi ricordate la sfida con la roccia sospesa nell'aria eh sì sicuramente sì tutto a sinistra ci siamo mappa eccolo laggiù il posto uno dei posti migliori secondo me per farmare questo Dio del Ferro che è un po' come il God Lea o come il Vermivorus quindi uno degli stadi l'ultimo stadio evolutivo che cosa? E dobbiamo partire da un Golem ferroso duro è l'unico modo qui secondo me l'ideale sarebbe riuscire a passare magari con Zero che è invisibile arriva giù attiva il Golem e poi torna qua sopra in modo da per cecchinare da lontano il Golem per fare quello che tra un po' vi spiego e sapete perché? qui da Kito uno ammazza tutti ma per far evolvere il Golem un po' come il Goliath c'è bisogno di carne fresca in modo che li possa far fuori i nemici e ogni tot nemici evolve e mi sembra ce ne vogliono ben 11 per trasformare il nostro Golem di partenza in quest'area però non c'è nulla da fare se non fate fuori gli Orchi e i Nani il Golem non salta fuori ad occhio dovete distruggere quasi due ondate di nemici e poi finalmente ecco il Mister ho preso un fucile da cecchino perché dobbiamo portare il Golem di ferro duro in uno stato detto slegato liberato e come starete intuendo nonostante la mia mira un po' che lascia desiderare il trucco è continuare a sparare lì nella fiamma prima o poi la fiamma si spegnerà e il Golem passerà di stato da Golem di ferro duro a non mi ricordo tra un po' vediamo cercate di evitare di andare in lotta per la vita perché se non riuscite poi a rigenerarvi qui in quest'area al di là del fatto che poi diventerà più dura la lotta finale contro l'eventuale dio del ferro che è potentissimo rischiate di risuscitare su alla più vicina stazione salvataggio e di avere l'amara sorpresa al ritorno di non trovare più il vostro Golem magari già evoluto di un po' di livelli bruttissimo un altro consiglio per non rischiare di accoppare il Golem prima che sia passato di due o tre livelli ma anche solo di un livello poi diventa talmente potente che il rischio non lo correte più è meglio non usare un'arma scoria perché chiaramente mentre sotto l'effetto prende molto più danno anche da parte dei nemici che lo stanno tormentando e si rischia di fare un po' di attacco inoltre i Golem sono resistenti praticamente a ogni elemento per cui il meglio è con armi esplosive ecco avete visto Golem di ferro duro slegato ecco non mi ricordavo sto cavolo e ora godetevi lo spettacolo sperando di avere nemici a sufficienza nei paraggi io forse ho sbagliato ho fatto fuori quelli che stanno in alto perché la mia idea era ok se riesco a far aprire il cancello dal cancello poi ne escono altri forse ho sbagliato perché prima o poi sarebbero scesi no cosa molto furba è abbassare la salute dei nemici perché nonostante la sua dimensione imponente non è che infliga poi così tanto danno a orchi i nani eccetera la nozzle poi è troppo poco precisa un fucile da cecchino scoria è l'ideale dovremmo essere vicini a un altro passaggio fatto fuori ecco qui golem di ferro spericolato qui gli ho morbidito proprio al lumicino questo nano bellicoso dovrebbe farlo fuori con un colpetto e hopla ah no è semplicemente salito di livello o da 82 83 ma è ancora un spericolato 84 e in effetti deve arrivare a 92 se non ricordo male e pensare che gli ho fatto fuori 4 o 5 nemici che forse con un po' di pazienza su ancora di livello 85 qui mi ha fatto fuori e non so se sia stato questo a farlo evolvere a 86 ma attenzione questa tecnica non paga perché dopo 2-3 volte avrete la sgredditissima sorpresa di tornare qua giù e trovare tutto desolato anzi ci ritrovate di solito ancora un golem ad inizio dello stato dello stadio evolutivo personalmente 86 è il nemico più potente che ho incontrato finora penso chissà 92 92 mi sembra di aver letto che con la differenza tra il vostro 72 e il 92 lui è in grado di assorbire come niente fosse il 99 punto rotti qualcosa per 100 del danno che infliggete detto in altre parole il vostro danno è solo il 3-4% in proporzione di quello che fareste a un nemico di par livello portatevi dietro quindi circa 7-8 tir di munizioni d'accordo come dicevo non ci sono riuscito però visto che ero capitato da queste parti ecco sarà interessante a di là che in questo periodo ho una difficoltà bestiale a causa di un cambio di gestione dei post da parte di youtube a rispondere avrete letto qualche mio post di lamentela sapere da voi se invece a vostro parere il posto migliore per farmare il golem il dio del ferro sia un altro e per quanto mi riguarda spero prima o poi di poter caricare un altro video con lo scontro definitivo alla prossima di poter